Eccoci qua amici del canale del CM ancora proseguendo con Mosaichiamo la città con Linda che arriva dall'Inghilterra. Ciao Linda. Ciao. Prego. Mi chiamo Linda Griffiths e sono parte del gruppo dell'Unione Unite, con Carrie Reichardt, Mara Fraud e un grande gruppo internazionale. Abbiamo venuto qui a mosaico la città, come è necessario, è stato un'interessante esperienza, è bello di metà solle persone di diverse nazionalità e è stato bello lavorare con il mio gruppo perché avevamo anche 4 nazionalità in il nostro gruppo. I've spent most of my time being a ceramicist and so I do some mosaics as well and I really enjoy making ceramic pieces that fit into the mosaic, which is what we did here. It's been a really lovely experience, the people have been really kind, really nice and the only downside of course has been the weather, which is not expected. So I'm a bit cold. Apart from that, it's been great. Thank you very much. Thank you so much. Bye-bye. Grazie a te.